Si è presentato con la pistola in pugno, casco in testa e fular sul viso, intimando alla cassiera di consegnargli l'incasso di giornata. Un faccia a faccia durato solo pochi istanti, il tempo di intascarsi con tanti, circa 1000 euro, e di uscire di corsa. E' successo ieri, attorno alle 18.30, nel supermercato delle Cop di Via Vergerio. Attimi scioccanti per la dipendente del negozio, che non ha opposto alcuna resistenza, e dopo l'uscita del malvivente, ha dato subito l'allarme al 113. Il rapinatore indossava una giacca chiara e pantaloni scuri, si esprimeva in italiano, senza inflessioni, ed è stato descritto come alto 1,80 e dall'apparente età di 35 anni. Le indagini sull'accaduto sono affidate alla squadra mobile, che sta vagliando anche altre testimonianze di quanti avrebbero visto l'uomo allontanarsi dal negozio per risalire così alla sua identità.